Lui è in casa. Papà non sta facendo 6 ore, ne sta facendo 10. Ecco lui. E' una palamita. E' una palamita. E' una palamita. Ma che bello grosso è. E' una palamita. Aspetta, aspetta, ok. Tento il filo, eh. Aspetta, ecco, te la tiro lì vicino. Eh, come da questa, vedi, fuggi. Papà, la canna. Guarda qui che bumma. Ah, che pesce. Guarda che bello. Oh, ragazzi, questo per me è tantissimo aroma. Che pesce è questo. Aspetta che c'è. Palamita. Questo qua morde, sì, eh. Ma che denti che c'è? Ma hai visto come l'hai preso, sì. L'hai preso del filato. L'hai preso del filato. Aspetta che c'ho la. C'ho la pinza. E' allata addosso. Non l'ha preso in bocca, ma l'ha preso. Sta gocciolando di sangue. Ma come fa a non prenderlo in bocca? Questo è l'allata addosso. Non l'ha chiappato subito. Aspetta, eh. Lo vuoi fare tu, che sei di comodo. Facciamo così. Ho c'ho le mani, eh. Oh, oh, sta buono. Lo mi accomodi. Stronzo. Mamma mia. Bravo. Tanta roba. Lascia, lascia che lo recupero io piano piano attento, Dani. Attento. Adesso lo mettiamo giù, a testa per di giù, che si scarica del sangue. Dopo facciamo le foto. Grazie. Allora, io ce l'ho da vedere, te che hai le mani pulite, qui dentro. Grande papi. Yeah.